Catechesi 321 Vangelo, Matteo 9,18-26 Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. È bellissimo l'episodio della guarigione della donna che da, ben dodici anni soffriva di perdite di sangue. Ella desiderava toccare anche solo il mantello di Gesù, convinta che se ciò avesse fatto avrebbe ricevuto il miracolo. Pensava infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Era tanta la sua fede che, appena toccato il mantello di Gesù ottenne l'immediata guarigione. Tanti cristiani invece mangiano il corpo di Cristo e molto spesso non ottengono nulla, eppure la differenza è enorme, non c'è paragone tra il toccare e il mangiare. Come mai? È una questione di fede, una fede che non si improvvisa e che si sviluppa, con pazienza, giorno dopo giorno, con una vita sacramentale corretta, la pratica coerente delle virtù, la preghiera umile e fiduciosa. La vera fede non si trova in quelli che si esaltano facilmente e vogliono mostrare una santità falsa, fatta solo di apparenza, di belle parole, ma mancante totalmente di opere. La fede dell'emorroissa è davvero commovente, una fede forte, convinta, oserei dire, superiore a quella degli apostoli nei primi tempi che seguivano il Maestro. Il cuore di questa donna aveva intuito chi era Gesù, aveva avvertito l'incredibile potenza di guarigione di quell'uomo neco e straordinario che passava in mezzo alla folla. Questa sua fede era frutto innanzitutto di una coscienza pura. Nell'anima di questa donna Dio vi poteva scrivere i suoi segreti e ricolmarla di conoscenze soprannaturali. I puri di cuore comprendono sempre ciò che viene da Dio. Il loro cuore inondato di luce avverte immediatamente il profumo ineffabile del cielo. Chissà da quanto tempo la donna desiderava incontrare Gesù, chissà quante volte lo aveva pregato nel silenzio del suo cuore, senza clamori e, con profonda umiltà. Questo è il vero cammino di santità da compiere, la salita per arrivare ad incontrare Gesù senza rimanere nell'illusione e nell'esaltazione. Se non si combattono i vizi e tutti quei comportamenti opposti al Vangelo, si rimane sempre immaturi nella fede e non ci sono parole sufficienti per diventare credibili. Già il volto manifesta l'interiorità di una persona, la gioia o l'agitazione, la verità o l'inganno, la spiritualità autentica o la falsità. Gli occhi poi, più di ogni altra cosa sono lo specchio dell'anima. Ci sono occhi limpidi, che sono come laghi di luce perché riflettono la bellezza spirituale. Ci sono sguardi luciferini perché nell'animo di queste persone dimora lo scuro, colui che odio, falsità e inganno. Non sono le parole a dare contenuto alla nostra fede. La donna non ha detto nulla a Gesù, non cercava di mettersi in mostra, non cercava la lode degli uomini, e la serbava nel silenzio del suo cuore la sua vita contemplativa proprio come la Madonna. Toccò solamente il lembo del mantello di Gesù, ma in quel tocco c'era tutto il trasporto del suo cuore, tutta la sua fede incrollabile e piena d'amore, una fede e un amore che commossero Gesù e che le ottennero la pronta guarigione, il flusso di sangue si fermò all'istante e fu risanata completamente e definitivamente. Ritorno, ancora una volta alla domanda iniziale, come mai tanti ricevono il Signore e non ottengono grazie? Occorre guardare ed esaminare le nostre disposizioni interiori. Ognuno deve verificare la sua condotta. Sono stati confessati i peccati mortali? Si osservano i comandamenti? Si è disposti a perdonare il male ricevuto? Eccetera. Quando si fa un autentico cammino di fede avviene sempre qualcosa di grande ricevendo il corpo di Cristo. Gesù e Eucaristia a tutti i credenti, ben disposti interiormente dona sempre qualcosa in più, e sempre ripete come alla donna del Vangelo le consolanti e stupende parole, coraggio, la tua fede ti ha salvato. Vangelo, Matteo 5,13-16, voi siete la luce del mondo. La luce di Dio risplende incessantemente come un astro luminoso ed inestinguibile. Niente e nessuno potrà mai fermare l'Eterno e fondersi di questa luce che avvolge e penetra ogni cosa e dà la vita a ogni essere creato, luce indicibile ed ineffabile che sarà il gaudio di tutti i beati. I potenti del mondo, tra cui numerosi italiani legati al Bilderberg, fin dal 1954 si sono alleati per gestire l'economia del mondo, seguendo strategie maledette per distruggere il cristianesimo. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo sono arrivati persino ad occupare posti rilevanti nella Chiesa Cattolica, inserendo personaggi affiliati agli Illuminati, che hanno tradito Gesù Cristo. E qui siamo, ben oltre la massoneria. Tutti questi individui sono convinti di possedere la vera luce, raggiungibile, secondo loro, razionalmente. Si credono uomini liberi perché non vogliono essere schiavi di nessuna legge, la loro libertà la trovano nei loro rituali massonici. Pensano di avere dentro di sé la forza e il potere per autogestirsi e vivere bene, senza Dio. Hanno messo il loro io al posto di Dio. La loro opposizione a Gesù Cristo è più di una ribellione che comunque appare sempre ingiustificata, dato che il Signore non impone a nessuno di osservare i comandamenti e rimette al libero arbitrio le scelte di ogni persona. Le teorie che sostengono affascinano molti uomini e donne lontani da Dio e purtroppo anche molti cardinali e vescovi che hanno abbandonato la fede. Il massone afferma di essere un uomo desideroso di passare dalle tenebre alla luce. Quale luce cerca? Dove la trova se vive in opposizione a Gesù Cristo? Come è possibile senza i sacramenti che danno la grazia di Dio? Vedere la luce. Detto questo, vediamo come è avvenuta la fondazione del Bilderberg. È un testo tratto da un libro che impressiona per la crudeltà dei nemici di Dio. Immaginate un club privato composto da presidenti di stati, primi ministri, banchieri internazionali e loro collaboratori vari, con eleganti chaperons dove si assicurano che tutti stiano comodi. All'interno di questo club tutta questa gente discute di guerre, di mercati e dei destini dell'Europa e del mondo, facendo discorsi che mai oserebbero sostenere in pubblico. Ecco, questo è il Bilderberg Group, ed è l'organizzazione più segreta del mondo. La ragione per la quale nessuno vuole spezzare il giuramento di segretezza sul gruppo, è stata rivelata al mondo dal giornalista francese Thierry de Segonzac, il Bilderberg è troppo potente e onnipresente, quindi i suoi membri non vogliono esporsi. La segretezza sul Bilderberg ha attirato l'attenzione di scrittori come Robert Lutelum e Gaile Linz. I loro libri sono basati sui pochi fatti resi pubblici e riguardanti il gruppo. Questi scritti dimostrano che ogni cambiamento di regime politico da qualunque necessità sia stato dettato, opporsi a riforme sociali, oppure sostenere il grande capitale, avviene, ovunque nel mondo, quando questo gruppo elitario decide di voler occupare i posti di potere e gestire meglio i propri interessi. Il mondo sarebbe migliore e l'aria meno inquinata, senza questi gruppi di potere che si propongono la creazione di un solo governo e di una sola religione. Anche quella cattolica verrà inglobata, assorbita, nella nuova chiesa mondiale in cui verrà presentato l'Anticristo. Potete accorgervi del cambiamento che si sta attuando nella chiesa cattolica, ascoltando le omelie in cui viene ridimensionata la figura della Madonna e quella di tutti i Santi, in cui non si dà più importanza all'adorazione eucaristica, alla recita del Santo Rosario e a tutti quei valori che sono fondamentali per la nostra fede cristiana. Anche la Santa Comunione sta perdendo la sua sacralità perché viene distribuita a tutti indistintamente, anche a coloro che sono in peccato mortale. Siamo in pieno protestantesimo e molti cristiani in buona fede non riescono a capire questo drammatico momento, perché non hanno la preparazione adeguata per leggere i segni dei tempi e accorgersi della grande apostasia che si sta diffondendo come un cancro maligno le cui cellule stanno intaccando tutto il tessuto della nostra sana dottrina cattolica. Purtroppo anche molti parroci ignorano il piano massonico nella Chiesa o non hanno il coraggio di annunciare la verità della Santa Chiesa. Tutti costoro prima o poi dovranno rendere conto a Dio delle loro azioni e delle loro gravissime omissioni che causano la perdita eterna di moltissime anime. Nelle riunioni settimanali che si svolgono in tutte le diocesi, vengono lette ai parroci le nuove disposizioni liturgiche moderniste e la linea da seguire riguardo gli immigrati. Inutile dire che le novità moderniste e protestanti vengono proposte e diffuse poco alla volta. Non è prudente svelare l'intero piano massonico. Il veleno lo distribuiscono a piccole dosi, ma l'effetto finale è assicurato, uccidere la vera fede prima in coloro che devono guidare la Chiesa e poi in tutti i fedeli. Sono rimasti pochi i cristiani autentici, gli innamorati di Cristo e della Vergine Santissima. Il Signore conta su questo piccolo resto che guidato da Maria schiaccerà, ancora una volta la testa superba di Lucifero. Tutti gli arroganti e i prepotenti del mondo che hanno causato indicibili sofferenze all'umanità, verranno inceneriti dall'onnipotenza di Dio e precipitati nello stagno di fuoco dove saranno tormentati in eterno. Abbiamo da poco festeggiato Sant'Antonio di Padova. Egli ci insegna che il sacerdozio è la piena donazione di sé alla Santissima Trinità, la piena obbedienza alla sua legge e l'osservanza perfetta dei comandamenti. Un sacerdote può cadere nel peccato, ma sa che, con la confessione ritorna a vivere in comunione, con Dio, ed essere così una buona guida per tutti i suoi fedeli. Dobbiamo pregare molto per tutti i sacerdoti, su tutti invochiamo la luce dello Spirito Santo. Molti di loro sono uomini buoni caduti nell'indifferenza per non avere curato la vita spirituale, mentre altri, per debolezza, sono stati soggiogati e sottomessi al modernismo imperante insegnato nei seminari e trasmesso da molti cardinali e vescovi. Chiediamo a Sant'Antonio di intercedere per tutti loro, di ottenere ad ognuno l'amore sapienziale della scrittura, come l'amava lui. Egli divenne un grande predicatore e un santo straordinario per lo studio appassionato della Bibbia, per la continua preghiera e per l'osservanza perfetta del Vangelo storico. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 5,27-32. Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio. Queste parole appaiono come superate, antiquate e inopportune in questa società dedita ad ogni forma di peccato e di perversione. Chi legge quanto afferma Gesù e non ha una solida spiritualità rimane sconcertato. L'uomo carnale considera improponibile questo messaggio cristiano. Certamente, senza la vicinanza di Gesù diventa assai difficile praticare le virtù, senza di me non potete far nulla Giovanni 15,5. Intende nulla di buono perché tutto il male immaginabile l'uomo lo compie, con una facilità estrema. Il bene e ogni azione virtuosa si compie solo, con Gesù. Lui sostiene quanti chiedono aiuto e compiono sforzi, piccoli e grandi per lasciare la vita peccaminosa rinascendo a vita nuova e scoprire così la vera gioia. Arrivare al dominio dei sensi è un cammino tutto in salita, ma molto spesso Gesù si rende presente nell'anima ed ha una forza superiore per sopportare l'insopportabile. Questo aiuto Gesù lo dona a tutti coloro che pregano molto e ricorrono a Lui. L'insegnamento di Gesù arreca una consolazione che questo mondo non conosce e appunto non può dare. La sapienza che proviene dagli insegnamenti e da ogni parola di Gesù non è una sapienza umana, ma divina, e Dio che parla attraverso il suo figlio Gesù. Oggi Gesù prende in esame il peccato dell'adulterio, un peccato mortale diffusissimo e va alla radice di questo male. Tutto nasce da uno sguardo impuro, non si deve guardare una donna per desiderarla perché ciò va contro il nono comandamento, non desiderare la donna ad altri. Quando ci accorgiamo di voler guardare troppo ciò che non è bene guardare, ricordiamoci le parole di Gesù, se in tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te, conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. Gesù intende dire, con questa espressione forte, ovviamente va interpretata correttamente, che occorre opporre un no fermo e deciso, rifiutando di guardare ciò che danneggia lo spirito perché le conseguenze potrebbero addirittura portare alla dannazione eterna. Il desiderio di commettere peccato è già peccato. Se sapessimo guardare solo ciò che è buono quanto marcio in meno ci sarebbe nel mondo. La Terra si è trasformata in un'immensa cloaca proprio per tutti i peccati impuri che si commettono e in questi ultimi tempi si sono raggiunti livelli veramente innominabili. Giacinta, una dei tre pastorelli di Fatima diceva che i peccati impuri sono quelli che conducono più anime all'inferno. L'occhio è sempre avido di guardare, è sempre mosso da un'insana curiosità di voler vedere ciò che non è lecito e oggi, con tutti i nuovi mezzi di comunicazione gestiti da Satana e dai suoi seguaci le occasioni di cadere nei peccati impuri si sono moltiplicate all'infinito. La purezza purtroppo non esiste quasi più e per possedere questa angelica virtù bisogna incominciare ad avere uno sguardo puro che ricerchi solo ciò che edifica lo spirito. Allora una cascata di luce non derà giorno dopo giorno la nostra anima che pian piano si purificherà e diventerà bellissima, sarà un'abitazione gradita del Dio vivente che in essa troverà il suo riposo e la sua compiacenza. Se vogliamo ricevere molte grazie e trasformarci in creature nuove, quasi angeliche, occorre rinunciare alla curiosità e ai peccati causati dal guardare quanto oggettivamente deturpa l'anima, perché alimentano i sensi e indeboliscono la resistenza al peccato. Non dimentichiamo mai che Dio è purezza infinita e non può dimorare in un'anima impura e in peccato mortale. Lo stesso vale anche per la mano, e se la tua mano destra ti occasione di scandalo, tagliala e gettala lontano da te, conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Le nostre mani devono servire solo per compiere opere di bene, rinunciando a compiere tutto ciò che è grave offesa a Dio, furti, omicidi, peccati impuri ecc. Gesù ci chiede dunque di distaccarci completamente dal peccato, dalle proprie passioni, dai propri vizi che sono la causa della nostra rovina spirituale e della rovina di tante famiglie. Gesù ci chiede di riacquistare la dignità dei veri figli di Dio, per essere un giorno eredi della vita eterna, nella beatitudine infinita del paradiso. Buona preghiera a tutti.